Il raggruppamento F di Serie D nel girone di andata ha mantenuto un trend pressoché costante. Il Matelica è campione d'inverno, un titolo assolutamente platonico ma indicativo della supremazia che hanno avuto i marchigiani quasi sempre. In pratica il Matelica si è preso la prima posizione il 22 ottobre, cioè all'ottava di andata, grazie al successo in esterno sulla San Giustese 3-2 e ha spodestato proprio il Campobasso che quel giorno ha pareggiato 2-2 a Castelfidardo. Da lì in avanti si sono staccate tre forze da tutto il resto del gruppone creando una specie di dominio tripartito. Matelica, Pesaro e Vastese hanno fatto una mole incredibile di punti. Il Matelica chiude l'andata con 44, Pesaro con 40, Vasto 37. Dovesse rimanere questa la media. Il Matelica chiuderebbe ad una quota vicina ai 90 punti, un qualcosa di incredibile se solo si pensa che lo scorso anno la Fermana al giro di Boa archiviò la diciassettesima con 35 punti, cioè 9 in meno dell'attuale capolista del Girone. Chiaramente ci deve essere di converso una tendenza opposta nei bassi fondi della classifica. Disastroso il ritmo avuto da Monticelli e Nerostellati che solo da poco hanno vinto la loro prima partita. Un'anomalia, un Monticelli così in basso, quella stessa squadra che lo scorso anno stupì tutti chiudendo i giochi a quota 47. Tra le squadre che hanno evidenziato un ottimo approccio al campionato c'è da elogiare l'Aquila di Battistini che con tutti i problemi societari connessi ha fatto 25 punti. Anche lo stesso Pineto non ha mai tremato stazionando sempre o quasi al ridosso della zona nobile. Tra le squadre che hanno avuto una netta involuzione rispetto allo scorso campionato c'è senza dubbio il San Nicolò che ha fatto tanti cambiamenti dal campo di gioco delle partite interne all'allenatore Epifani migrato alla primavera del Pescara. Gli abruzzesi segnano davvero con il contagocce, subiscono tantissimi gol, ben 27 al passivo. Insomma una squadra che deve provare a cambiare musica se non vuole finire dritta dritta in zona play-out. Le squadre che hanno perso di più sono il Nerostellati ed il Fabriano, ben 12 sconfitte sul groppone. Mentre gli abruzzesi del Nerostellati sembra che si trovino in Serie D quasi esclusivamente per onore di firma, i marchigiani del Fabriano, allenati da Sauro Trillini dopo due vittorie consecutive iniziali, hanno totalizzato otto sconfitte consecutive e si sono pure prestati, si fa per dire, alla prima vittoria stagionale del Nerostellati. Insomma non proprio un record che passerà in positivo alla storia. Tra i numeri da ricordare c'è la Jesina che ha cambiato tre allenatori in 17 giornate e le Molisane, Agnone e Campobasso che hanno avvicendato entrambe la guida tecnica nel girone di andata. Il dubbio anche appassionante è chi la spunterà fra le tre, Matelica, Pesaro e Vastese, favoriti ovviamente quelli del Matelica se non altro per il più quattro sui pesaresi che tuttavia può non essere considerato un margine di grandissima tranquillità. Se nella zona rossa il Nerostellati appare quasi con l'acqua alla gola, il fiato degli sportivi interessati sarà sospeso proprio per la lotta a promozione. Anche la Vastese fino a ieri voleva solo salvarsi ma con 37 punti. L'obiettivo stagionale può decisamente cambiare.